Mi chiamo Paola Bernasconi, oggi siamo qui perché i docenti precari, quelli che tutti i giorni sono ad accogliere gli studenti nelle vostre classi, non vengono pagati regolarmente, ci sono dei ritardi di mesi, stiamo raccogliendo tante testimonianze di colleghi che non riescono a pagare le spese per poter vivere né le spese per potersi recare a lavorare perché gli stipendi hanno dei ritardi enormi, non si ha chiarezza su quando si riceveranno quelli successivi o si verrà pagati, quindi si continua a lavorare pagando di tasca propria e molti si trovano in una situazione in cui non sanno più dove prendere i soldi, insomma siamo personale più che qualificato, abbiamo laurea, master, dottorato, CFU, siamo sempre pronti e disponibili, noi ci troviamo spesso ad andare in scuole lontane dalla nostra sede di residenza e credo che sia vergognoso il fatto che non si venga pagati con regolarità. Salve, buongiorno, sono Umberto Emanuele, sono calabrese però lavoravo a Firenze, a Fiesole siamo venuti qui oggi a manifestare per la disparità che si è creata dal 31 dicembre in poi verso i collaboratori scolastici e noi personale amministrativo e tecnico dove i collaboratori scolastici hanno avuto una proroga fino al 15 aprile e mentre noi siamo stati lasciati fuori dal 31 dicembre in poi non abbiamo avuto più notizie della proroga del contratto e a tutt'oggi non abbiamo ricevuto né stipendi precedenti né tantomeno una nomina o una proroga di quello che era il nostro contratto. Ciao, buongiorno, sono Marina e sono collaboratrice scolastica e sono stata assunta il 19 di ottobre con il contratto PNRR al 31 dicembre e poi prorogato al 15 di aprile e al momento oggi è il 13 febbraio non ho ancora percepito nessuno stipendio e siamo qui appunto a manifestare a chiedere il perché di questa situazione, capiamo un mese di ritardo ma insomma ormai siamo cinque mesi e non è possibile anche perché uno dovrebbe avere un secondo lavoro per potersi mantenere, quindi siamo qui per questo.